Bella a tutti ragazzi, io sono Rappo, bentornati sul nostro canale Oggi vi portiamo un video molto interessante su Extinction Dove vi faremo vedere come abbatterà il muro in veramente pochi secondi Questa tattica è veramente buona e qui siete meglio è Noi in questo caso eravamo in tre Due utilizzavamo questa tattica e quindi utilizzavamo la torretta lancia granate Mentre invece il terzo ci copriva In questa tattica praticamente ragazzi dovete quasi potenziare la torretta al massimo se avete i punti Poi quando arriverà l'elicottero, quando il muro potrete distruggerlo Dovete posizionare la torretta e cominciare a sparare sopra Sparare sopra finché non vi si distrugge Ovviamente in più sparate la torretta e meno tempo ci mettete In questa tattica funziona sia con il primo muro che con il secondo Vi consiglio che se siete in quattro di sparare in tre con tre torrette lancia granate Mentre invece il quarto vi deve coprire Mentre invece se siete in due come noi due sparano e uno copre Se siete in due ragazzi non ve lo consiglio A meno che solo uno spari e l'altro difenda Dato che se no vi arrivano troppi zombie addosso Soprattutto durante l'attacco ai muri Gli scorpioni ci metteranno a poco di uccidervi Se non copre nessuno Quindi ragazzi spero che il video vi sia stato utile Vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale E bella!